Il Figlio del Prodigo Buona Pasqua della settimana, siamo ormai quasi al termine di questo cammino, o forse all'inizio, chissà, perché credo che un cammino quaresimale non sia solo un tempo liturgico, ma in realtà è un impegno che dura tutta la vita. Gesù ha fatto una lotta nel deserto e quei 40 giorni sono un po' come il segno e la cifra della nostra vita. Tu hai detto torniamo alla realtà oggi, forse perché volevi riferirte al testo bellissimo del capitolo 8 di Giovanni, che in verità è un testo lucano. Poi è capitato una serie di avvenimenti, è capitato nel Vangelo secondo Giovanni e non ci sta male, perché davvero è un testo profondissimo. Anche perché il contesto, se andiamo a guardare la fine del capitolo 7 di Giovanni, c'è stata tutta una serie di discussioni da parte degli avversari di Gesù e anche dalla gente. Ma costui da dove viene? Non viene forse da Nazareth? E Gesù si ritira sul Monte degli Urivi, che rappresenta un po' la sua cattedra, il suo pulpito, il luogo dove davvero Gesù può ritornare nella comunione intima col Padre. Ecco la fede di Cristo. Cristo si è fidato continuamente del Padre e lui fa spesso appello al perdono, alla misericordia, soprattutto alla conversione, senza mai trincerarsi dietro una presunta o falsa innocenza. Al mattino poi scende di nuovo nel Tempio, credo molto probabilmente nel portico di Salomone, dove c'erano tutti i rabbini che facevano discussioni sui versetti biblici. E l'attività di Gesù è insegnare continuamente. Proprio in quel fragente arrivano gli scrivi i farisei, trascinano in malo modo una povera donna che è stata sorpresa in flagrante adulterio. Tutta la scena ha veramente un grosso valore sapienziale. La mettono al centro e si appellano a Gesù, perché dica apertamente che cosa prevede la legge in questi casi. Dobbiamo notare, diciamolo subito per le nostre amiche e i nostri amici, che questa azione non è una richiesta innocente di un giudizio da parte di un grande rabbino, ma in realtà è un ennesimo tentativo di mettere Gesù in difficoltà. Perché che cosa farà Gesù? Se le accorda il perdono, si mette contro la legge. Se la applica la legge, allora nega tutto quello che ha insegnato finora. E insomma, dovunque va Gesù evidentemente darà continuamente problemi. Quindi loro aspettano. La situazione è veramente difficile, perché dall'altro Gesù spesso ha parlato oltre la legge di Mosè, o l'ha interpretata in un modo molto più retto. Lui ha l'autorità di Dio stesso. Che cosa vogliono questi avversari? Della donna non si interessano proprio nulla, non importa. Anzi, è il pretesto di questa povera donna soltanto per sconfessare quell'annuncio del perdono che ha fatto Gesù. E' una scena che si ripete anche oggi, contro la misericordia, mentre quella è l'essenza di Dio stesso. Quanto Gesù dirà o farà assume agli occhi degli scrivi dei farisei un valore molto radicale. Il testo è abbastanza simbolico. Ha delle strane reazioni, Gesù, il quale per ben due volte si alza e si siede. Ma lo stare seduti significava inginocchiarsi e posare il lato B proprio sui talloni. E' la posizione del maestro. Fa due volte alcune cose. Si alza e si siede di nuovo. Per due volte, catagrafo, dice il testo greco, traccia dei segni. Non scrive. Qualcuno pensa che stia citando forse Geremia 17, quando vi allontanate da Dio, i vostri nomi sono scritti nella polvere. In realtà forse Gesù non vuole dire questo. Fa dei segni. L'importante è che lo fa per ben due volte. Ogni volta che si alza Gesù parla del perdono. Quindi il perdono resta il dato centrale, contrapposto alla condanna che chiedono in modo molto vivace questi religiosi. Il dito che traccia i segni, tra l'altro, per gli uomini biblici, evoca indubbiamente le tavole. Le tavole di pietra della legge scritte dal dito di Dio. Qui c'è il dito di Gesù, ma Gesù è Dio, è il figlio di Dio. E anche il suo alzarsi e chinarsi può essere un'allusione alla duplice ascesa e discesa che ha fatto Mosè Sonsinai per ben due volte per ricevere le due tavole della legge. Torna questo numero due. La legge infatti è stata donata due volte perché c'è stato l'episodio famoso del vitello d'oro, una visibilizzazione di Dio. Mosè tardava a scendere e hanno raccolto tutti gli oggetti e hanno costruito il vitello d'oro. Cosa rappresenta il vitello d'oro? Vuole rappresentare la visibilizzazione di Dio. Quel Dio che è spirito, quel Dio che ha dato la legge, ebbene il popolo lo vuole vedere e Arone gli costruisce il vitello d'oro. E Mosè ha spezzato quelle tavole e di nuovo è dovuto salire sul Sinai, 40 giorni, 40 notti per riavere le due tavole. Ritorna anche il numero 40 che abbiamo visto nei 40 giorni del deserto. Cosa sta dicendo Gesù con i suoi gesti? E' molto bello questo insegnamento attraverso i gesti, quasi a voler dire il perdono di Dio è più potente del peccato. E' un modo per dire a quelli scrive i farisei che conoscono la legge, la sanno a memoria ma non la vivono. Quella legge che Dio vi ha dato, sta dicendo Gesù, vi ricordate che ve l'ha data due volte? E che ha usato misericordia proprio fin dall'inizio, perdonando ai vostri padri. Quindi gli ha ridato le tavole. Gesù vuole ricordare cioè che siamo tutti peccatori. L'ha detto due domeniche fa in quella parabola del figo, ricordate? Voi pensate che quegli uomini siano più peccatori degli altri? No vi dico, ma siete tutti sotto il giudizio e se non vi convertite perirete. E allora Gesù usa una parola molto forte. Sono i gesti finora che hanno parlato. Ora si alza e poi dice questa espressione che è rimasta storica, una espressione che è rimasta indelebile nell'anima di tutti i cristiani. Perché Gesù per ricordare che siamo tutti peccatori, che nessuno, direbbe Paolo, ha dei crediti davanti a Dio. Nessuno può dire a Dio io ho un credito, tu mi devi qualcosa. Nessuno, nessuno. Siamo tutti peccatori. E quindi faremo bene a non dimenticarla. Gesù dice questa espressione. Chi di voi è senza peccato, scagli la prima pietra. Sono parole forti, parole che fanno riflettere. E infatti, cominciando dagli anziani, cominciano ad andare via. Perché vanno via a queste parole? Evidentemente è chiaro questo indizio. Nel loro intimo si è accesa la luce della coscienza. Gesù, con quella frase, con quei gesti, ha riacceso la loro coscienza. Ha fatto fare loro memoria che l'annuncio centrale della legge è proprio la misericordia. Il Signore, il Dio della giustizia, il Dio della verità, il Dio dell'amore, il Dio della fedeltà, il Dio della misericordia, è il Dio che passa davanti a Mosè. Dio è misericordia. E la misericordia è la giustificazione. Dio che ci mette in buon rapporto con Lui. È la grazia del Signore. E tutti scompaiono. Vanno via tutti. Come sono arrivati insieme, come in un drappello, adesso scompaiono tutti. A partire dagli anziani, che hanno forse più coscienza. Sono meno integristi dei giovani. Chi resta sulla scena soltanto Gesù e questa povera donna adultera? Una, uno di fronte all'altro. Il testo è meraviglioso perché descrive questa dolcezza meravigliosa con cui Gesù si rivolge a questa povera donna. Gesù non ha mai rimproverato in un modo, direi, proprio violento. Mai. È sempre molto dolce. Si avvicina alla donna che è stata liberata dal peso di una colpa, dalla vergogna che poteva provare in quei commenti. Si sentiva schiacciata e messa sotto processo da quella gente. E attraverso le parole di Gesù incontra forse per la prima volta un vero sguardo di colui che è il Dio che non vuole la morte, come dice il profeta. Non vuole la morte del peccatore, ma che si converte in viva. La donna scopre che il desiderio divino di Gesù è di averla come figlia e questo prevale su tutti i peccati. Donna, nessuno ti ha giudicata? Ti ha condannata? Nessuno, signora. Neppure io. Ma d'ora in poi va e non peccare più. La donna trova un amore che ha fiducia in lei. Un Dio che scommette ancora su quel futuro che forse lei stessa aveva ipotecato per sempre. È una pagina dove veramente l'amore di Dio prevale su tutto e su tutti. Un amore liberante, un amore gratuito, un amore immenso. Ma attenzione, non è un atto di magia. È un dono da accogliere in una persona che deve andare, mettersi in cammino, mettiti in cammino e non peccare più. Perché è Dio che accende dentro di noi la conversione. Questo è il cuore del messaggio che anche nell'anno che abbiamo vissuto qualche tempo fa, l'anno straordinario della misericordia di Dio, ritorno sempre a galla. Per cui davvero, davanti a questa scena, dobbiamo scoprire qual è il desiderio di Dio. Il desiderio di Dio è che ognuno di noi torni a casa. Come domenica scorsa, tornare a casa del Padre, scoprire che Dio ha questo desiderio di sedersi a menza con noi e di vivere in comunione con noi. Spetta a noi. Ecco perché va e d'ora in poi non peccare più. Mettiti in cammino e d'ora in poi non peccare più. Perché Gesù è veramente il perdono in persona. E quando Lui accende nel nostro cuore il suo perdono, siamo in grado di camminare secondo quell'amore. vivere secondo quel dono, aprendoci a quell'orizzonte della speranza che è certezza del perdono. E' veramente in quest'ultima domenica, direi, la pietra fondante che Gesù in questo bel cammino delle cinque domeniche ci ha dato. Gesù dà tutto il suo perdono, cambia il cuore, dà la possibilità e la forza di ricominciare tutto da capo, di non peccare più. Bella questa pagina del Vangelo, densa di speranza. Forse c'è un insegnamento anche per gli scrivi e farisei, cioè la legge tu non puoi usarla per ingannare, per intrappolare, non puoi provocare con la legge la morte di una persona, anche se colpevole. Dio non vuole che l'uomo resti prigioniero del peccato, ma che si converta in viva. Per cui bisogna stare anche a tempi. Paolo dirà la legge ti fa conoscere il peccato, ma non ti salva. Quello che ti salva è la misericordia di Dio. Grazie padre Ernesto. Noi ci ritroviamo domani, domani scusami, domenica prossima. Domenica, per la domenica delle palme. Eh sì. E quindi ti auguriamo una buona Pasqua della settimana anche per oggi. Grazie anche a voi, buona Pasqua della settimana e continuiamo il cammino in questa grande misericordia che è l'ambito in cui noi possiamo essere rinnovati e umanizzati. E quindi shalom. Shalom. Noi ci ritroviamo.